Il tema della sessione che coordino è il rapporto tra globale e locale. Noi viviamo in una società in cui da un lato abbiamo una crescente interdipendenza economica, interconnessione sociale e dall'altro una perdurante frammentazione politica e diversità culturale. Da un lato si sviluppano le reti di interdipendenza globale e dall'altro ci sono per contro specificità territoriali, chiusure identitarie. Da un lato si sviluppa la comunicazione interculturale, l'apertura su altre culture, altri modi di vivere, di pensare e per contro questo comporta anche delle chiusure o nuovi pregiudizi. E' proprio questo rapporto che cerchiamo di esaminare con riferimento a due aspetti. Uno l'analisi dei flussi e delle reti transnazionali, diciamo i flussi transnazionali, la costruzione di reti transnazionali. E dall'altro la necessità di governare questi processi con nuove forme di governance, cioè di regolazione, di integrazione dei rapporti sociali che utilizzino appieno gli strumenti che ci dà la società della conoscenza. I partecipanti al panel sono sia esperti di processi migratori e di meccanismi di assimilazione e di integrazione degli immigrati, sia esperti di sistemi complessi che richiedono un ruolo attivo di esperti e di specialisti in quella che possiamo definire forme di governance intelligente, perché appunto il problema principale che abbiamo oggi nel governo della società è proprio quello di riuscire a gestire la complessità. Questo richiede sia forme di governance multilivello, che prendano decisioni a diversi livelli di governo, sia il coinvolgimento di più attori, sia pubblici che privati, sia governativi che non governativi, e richiede anche l'utilizzo pieno di quelli che sono i risultati della ricerca, della conoscenza, la capacità di legare ricerca, innovazione e capacità di regolare processi di una società complessa.